Si va verso l'atto conclusivo degli Australian Open di tennis, primo appuntamento della stagione a Melbourne in Australia. In finale non si sfideranno le due sorelle Williams. Infatti Serena si è abbattuta con un doppio 6-2 la C. Bulkova. La sorella invece ha perso il derby contro la 19enne Case con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4. Ha fatto sensazione in campo maschile la clamorosa eliminazione dello spagnolo Rafa Nadal ad opera del tedesco Verdic. Buone notizie invece per l'Italia con Fognini e Bolelli che si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio, battendo per 7-6, 7-5, 7-6, 7-5. I due risultati si riferiscono ai tie-break dei due set. La coppia promata dall'oruguayano Cuevas e dallo spagnolo Marrero. Prossimi avversari sarà una coppia olandese-romena.